Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono io, bentornati in questo nuovo episodio, perché cazzo sto parlando così in questo episodio di League of Legends oggi gioco Zoe perché era da un bel po' che non la usavo e ne sentivo la mancanza tra l'altro prossima patch la buffano pure, quindi molto probabilmente verrà, non dico di nuovo abusata ma comunque verrà di nuovo usicchiata in midline sono tornato a Diamond 5 con il main ora devo rifarlo anche con lo smart così avrò due account Diamond 5 e sarò felice e oggi pomeriggio in teoria c'è un coaching di altre due ore quindi altri 6-7 sub regalati alla chat quindi venite in chat alle 4 e mezza, alle 4 e mezza streammo e streammo anche stasera alle 9 e mezza in teoria e quindi niente ragazzi, venite e saremo felici tutti quanti voi perché avrete un coaching gratis da ascoltare e dei sub e io perché... perché sì perché mi piace spiegare anche se poi rimango sempre con la gola mezza morta non ho mal di gola, non ho raffreddore ma ho questa voce strana che mi sono appena svegliato ma in realtà non è vero mi sa che devo farmi un'iniezione di cortisone perché beh... c'ho sta voce da morto e non lo so perché perché ho la voce da morto? qualcuno lo sa? hello? qualcuno in chat sa perché io ho la voce da morto? mi piacerebbe tanto saperlo allora vediamo se sto registrando perché a delle volte ho il microfono attivo bla 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 ok il microfono attivo allora come sapete io sono un fan dell'Electro Kiu Tzu Zoe no? ok Zoe va bene hai iniziato a parlare come una macchinetta va bene così allora dicevo come sapete io sono un fan di... dell'Electro Kiu Tzu Zoe ragazzi ora siamo contro Corky che c'ha il cleanse e sarà una rottura di coglioni perché mi toglierà la E però 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 gli faremo il culo ed è un botto che non uso Zorro potrei farci cagare è veramente da un sacco di tempo che non uso Zorro allora questa è una flex a Daemon 5 sempre ormai ho tutto Daemon 5 tutto quanto sia il solo Q sia la flex tutto quanto mi manca solo il terzo account in Daemon 5 e poi ho fatto ho fatto tutto per ora ne ho uno solo il secondo forse lo portiamo oggi o stasera non lo so dipende quando rankerò non so se rankerò col main o con lo smart stasera perché quando cioè dopo che dopo che faccio coaching sono stanco perché parlo un sacco mi concentro per dire le cose giuste è tipo stancante non so come dirvelo allora vediamo di rompere un po' il cazzo a a a smug o zeb vediamo di rompere un po' il cazzo al signor corchi lui c'ha la doramble giustamente perché cosa può fare il corchi non è che può prendere altro ok ok vorrei fare il livello 2 prima di lui così da tentare di di prendere vantaggio però non so se lo farò a parte che anche se lo prendo probabilmente che fa soddisfatto mate ti sto ammazzato non so se hai capito allora lui tra parentesi ha avendo il cleanse mi toglie anche mi toglie anche l'ignite ma infatti non posso fare l'ignite ragazzi avessi dato l'ignite se lo sarebbe tolto col cleanse quindi non ne è di fatto purtroppo non è andata bene questa cosa da del flash di solito funziona perchè usare il flash di 1-2 con Zoe è molto ripagante nel senso che se io l'avessi preso lui o avrebbe spiegato il cleanse e il flash assieme oppure io comunque l'avrei killato poi con l'ignite perchè non aveva più il cleanse purtroppo non è andata come volevo ma vabbè ci può stare ci sta anche comunque è da un botto che non uso Zoe ragazzi è veramente da un botto che non la uso è veramente da un botto che non la uso tanto la posso nemmeno ricallare che palle perchè la wave è messa male la wave purtroppo è messa male questo non l'ho preso devo anche stare attento al jungler che non no mannaggia a me devo anche stare attento al jungler che non so dove sta andiamo back ah il jungler malfight sta a botte va bene il jungler malfight è abbastanza è abbastanza strano il jungler malfight facciamo così così un po' di sostegno ce l'abbiamo abbiamo anche un po' di ap tutto quanto fatto è parecchio strano malfight jungla cioè anche se loro li stanno facendo uccidere non so come madonna quante summoner guardale guardale vorrei prendere tutte anche perchè io ho bruciato la mia e lui non ha usato nulla peccato in compenso ho fatto un back del cazzo perchè cosa ha preso una control e una puzza fine è stato un back abbastanza del cazzo del suo io invece ho preso non ho preso la control purtroppo no non ho preso la control cazzo dico ho preso la control ma non sono riuscito a a prendere a prendere le scarpette volevo anche le scarpette però per le scarpe dovevo per forza ucciderlo allora buongiorno ah è vero che stupido che stupido che sono mi sono scordato che il glp non funziona più così una volta il glp non ricordo quando debba fa ma una volta quando lo cliccavi ti dava immediatamente cioè passava tra il simino ora non lo fa più non so se non è il fatto o per zoe o per il fatto che un redemption un redemption non è male bene posso anche prendermelo un colpo per fargli sto danno ma se io uso la W doppia giù eccola qua una bella curetta per voi ragazzi faccio l'ealer da 30 km praticamente bellissimo quando prendi il redemption cazzo letteralmente curi tutti ad area dalla midri fino alla botri bellissimo a lei può morire uno smite mi garba uno smite mi garba vorrei sapere dove sta malfight anche se non dovrebbe avere kill potential su di me quasi quasi mai ha kill potential su di me perché è un malfight a meno che non prenda il 6 come cazzo fa a uscidermi non può ok pensavo non pensavo l'ha avuto più modo difensivo in effetti ci sta ci sta che l'abbia usata lol che cazzo di combo di merda che ho fatto ci sta che l'abbia usata però ho detto magari magari vuole provare a doggiare sono molto in vantaggio rispetto a lui anche se non ho i full minion cioè non ho tutti i mino che potevo prendere questo è un'immerica perché con Zoe è abbastanza facile farmare con Zoe è abbastanza semplice è semplice farmare visto cioè ha un altro attacco abbastanza buono io posso far così perché comunque malfight non c'è cioè potrebbe arrivare da qua ma anche se arriva in teoria non è una minaccia perché malfight deve arrivare al 6 prima di fare qualcosa se non arriva al 6 è un sasso letteralmente è un sasso in giungla è un sasso in giungla cosa vuole fare? ok questo non lo prenderò mai ma già lo sapevo ora ne approfitto del fatto che lui se ne sta andando per andare back pure io vorrei farmi illudono ovviamente ma purtroppo non posso iniziare dal da questo a me che problemi di mana io non ne ho quindi posso anche aspettare qua le scarpe mancano tipo 15 gol dalle scarpe e le scarpe mi fanno tanto più d'altro perché mi danno più velocità di movimento e mi aiutano contro sia per per doggiare le spell di corchi che non mi sta tirando perché lo sto un po' spaccando ahhh palloso palloso è vero che è una di carry e si può mettere a D ma hai fatto pure un favore perché mi hai yeah preso sarà un problema killarlo ora cioè quell'ex drinker fa non tantissimo ma fa però se prendo una bella summoner guarda che ora push anche più di me se prendo una bella summoner lo killo allora qua abbiamo stati attenti perché corchi vuole andare giù eccolo qua stati attenti ragazzi non fatevi inculare che io mi push tutta la mid lane perfetto arrivo 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 questo scappa ora scappa di R uh uh nice dammi questo flash va dammi un po' questo flash hopla che forse riesco a usarlo contro 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 corchi anche per fargli danno eh what sei morto mortissimo amico eh non ti servirà nulla eh non ti servirà nulla è morto qua ho dovuto ecco appunto c'è una mal è arrivato mal fight ci ho messo troppo a killare corchi purtroppo dopo recogliere il cleanse e rituizzare la ww ho sbagliato io ci ho messo veramente tanto a killarlo ma l'ex drinker l'ex drinker ha fatto quello che doveva e poi c'era ancora il blu qui ma quanto è summoner ci ho messo veramente troppo a killarlo che palle noioso 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 tra l'altro non abbiamo nemmeno mana cioè e non lo sento non ha le semana ma ha fatto comunque danno con gli autoattacchi basta parlare zitta muta madonna sei una chiacchierina 105 73 è arrivato anche la canne non ho visto se stava arrivando il nostro alista probabilmente no figurati quella non avrei mai presa mai nella vita è stata una bulla di merda quella chi sta arrivando ma il fedor non ha più la R quindi cosa mi stai pingando a fare amico ah ok la di carry è un altro conto non lo so non ho la R che cosa vuoi farmi che fa che fa che fa che fa è pazzo se meno stunni magari un po' pazzo sto tizio ragazzi un po' molto pazzo non l'ha stunnato subito e non lo so che cazzo ha combinato non lo so che cazzo ha combinato sto Jax di certo non qualcosa di carino che noia corchi raga che noia guarda quest'altro qua ancora sei serio? sei serio? 25 HP XD 15 ah ancora peggio ancora peggio raga ancora peggio d'altronde mi chiamano unlucky Ian c'è un motivo no? c'è un motivo se mi chiamano così vabbè non è troppo un problema cioè in realtà è un problema perché una kill mi serve cazzo una kill mi serve assai anche perché ora non devo farmi subito questo una kill mi serve e soprattutto prendiamo lo shutdown allora care bot corchi care bot corchi vediamo quanto volte devo scriverlo vediamo quanto volte devo scriverlo ok nevermind io però lo scrivo lo stesso perché giustamente il canone lo perdo vero? 41 HP 29 65 nah non l'ho colpito lui ora giustamente scenderà raga perché perché lo può fare perché lo può fare giustamente ok oh ci arriva se Teemo si muove forse diciamo per quello siamo in tre ma i botri sono stupidi babbo 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 ecco muori per Teemo vaffanculo pezzo di merda non l'ammazzerò mai ragazzi vabbè tanto era la ora ora l'ammazzo ecco fatto guarda ti aiuto anche non ti studio la kill ma ti aiuto almeno l'è difficile sto game l'è difficile sto game non penso che riuscirò a carriarlo non penso proprio che riuscirò a carriarlo ok per che altro la nostra botria non è molto forte ok dammi l'eal andiamo back che c'ho il Luden Teemo stai attento a quello che fai ah abbiamo già perso la torre ah ma ottimo allora mmm ottimo direi usiamo l'eal che ho bisogno di andare più veloce got the gun fast got the gun fast devo andare top ad aiutare sti tizi buono abbiamo preso la torre bot devo andare ad aiutare Teemo perché ecco infatti esattamente come pensavo esattamente come pensavo ma era logico eravamo più logico complimenti complimentoni caro death dive quello era un moba dive quello era un moba dive ragazzi siete a conoscenza di cos'è il moba dive se si era questo ma è full ap ma è full ap mal fight ma raga ma non fight è full ap e vabbè ci ho provato ma Jax c'ha Jax fa paura mate non puoi aver paura vabbè l'ho sbagliato io qua oh bravo minga questo tizio fa malissimo c'ha 200 di ap e fa veramente malissimo sto tizio madonna santa il suo rotellone metal ye canker champion penso che abbia detto che il mio champion è un cancro credo eh credo perché canker non so in che lingua sia onestamente ma non so cosa Ezra c'è la ultimate no Bok c'è un farm abbastanza carino ma la mid bisogna difendere in qualche modo anche se non riusciremo a difendere purtroppo mamma mia sei scarso Ezra mamma mia sei scarso Ezra ovviamente non riuscirò ragazzi a mai a carriere sto game la bottene sapete che fa sempre da padrone a tutto poi loro hanno mica una front line bella giocante noi noi ce l'abbiamo abbiamo Alistar per carità ma non mi sembra molto forte o puntiamo al late game di Ezreal in qualche modo ma allora loro ci entrano in base ci entrano in in giungla letteralmente ali trolls come Ezreal abbiamo un Alistar che trolla tanto quanto rollezreal quindi non so mamma mia che danno l'ho preso ma dai ha voltato il pezzo di merda nah ragazzi non lo vinciamo sto game sono anche troppo behind di esperienza di farm che palle che palle davvero la cosa di Zoe che farma male è rimasta comunque da quando gli hanno toto il waveclear che aveva ma il cannone da quando gli hanno toto il waveclear è abbastanza difficile farmare con Zoe se rom mi cioè se rom mi non gliela fai a farmare è difficile troppo difficile come faccio a vincere sto game non lo so proprio lui fa lo stesso danno nonostante non abbia ancora la trinity io non ho ward e non dovrei nemmeno andarci qua non ci dovrei nemmeno stare qua dovrei andare tople ce la faccio a killar lei eh ovviamente no perchè c'è raccano ok almeno le ho fatto un po' di danno shottarlo non potevo shottarlo quello mai ci ho provato ci ho provato timo ha ucciso qualcuno timo mi sa che ha ucciso corto buono nada timo è già morto come fa timo a perdere contro una di carri non lo so buono noi abbiamo jax comunque cioè non è una merda jax è pur sempre è pur sempre jax insomma preso preso 4 boom preso bene 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 vediamo via che c'è il signor corchino mi devo fare non subito il morello perchè loro non hanno fonti di life steal spell bump per le varie però mi sarebbe la penetrazione magica mi sarebbe per forza per la penetrazione magica ok andiamo back anzi andiamo back guarda che sta facendo questo non ho vision non posso usarla a cazzo è difficile il teamfight qua non muore perchè vabbè perchè arriva c'ha lo scudo di 2 secondi a parte che c'ha anche le mercury bravo le ecco ovviamente madonna mi ha one shotato sto cazzo di malfight full ap mi ha one shotato però me l'ha flashato e Jax ha preso un paio di kill questo è buono io ho tentato di giocare una bene ma non era troppo facile non ce la fai non ce la fai anzi ti kill la life pur non farti baitare bait non si farci baitare non si farci baitare hai il flash non hai il flash vabbè non è andata male è andata male perchè Jax ha preso un paio di kill per quello però ha sbagliato ha sbagliato build fammi fare una cosa va fammi prendere due ping qua non abbiamo visione da nessuna parte questo farm lo devo prendere io anche se non dovrei andare a splittare zone splitting fa cacare letteralmente non ho escape mi arriva riven addosso mi fa wow 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 pam c'è anche il drake quel cloud drake mi sarebbe molto utile molto molto utile ma veramente un sacco utile zoia ha bisogno di essere veloce zoia ha assolutamente bisogno di essere veloce spero che non stia arrivando buono spero che non stia arrivando arrivando ok arriva da me perfetto perfettissimo forse un po' meno perchè questa torre cadrà però vabbè non c'è che ci potevamo far molto basta che non cade anche la eh ma questo non riesco a prenderlo io eh infatti ma sono tutti i botri i miei compagni che cazzo possiamo fare givappiamo quel blu è un peccato perchè lo volevo io ma che bisogna fare bisogna givapparlo i miei compagni hanno tutti i botri a far cosa non lo so però hanno tutti i botri in arrivo un redemption non servirà un cazzo ma in arrivo un redemption devo tenermi il flash comunque per mal fight non posso usarlo in modo offensivo non posso assolutamente usare il flash in modo offensivo se no mal fight mi ulta addosso e mi in one shot quanto che potrebbe tranquill come fate morire ogni volta da kaisa ok che kaisa è sbroccata come champion ci può stare però ma quante war ci sono qua ma quante cazzo di war sono nella nostra mappa devo prendermi il trinket rosso altro che blu in realtà a me servirebbe il trinket rosso cioè il trinket blu scusatemi ma che fa con questo lol guarda attimo buono ho preso lui ho preso quello che dovevo ragazzi però fateli qualcosa no l'ho preso per niente mi sto dicendo va bene ma che cazzo posso fare madonna ma ho one shottato malferre mi ha one shottato ma che roba ragazzi ma che roba ma che è quando lo faccio io il mal fight full up non funziona mai quando lo fanno gli altri in giungla poi in giungla cioè in giungla la cosa strana vai uccidete la che hanno shottato un gigante fate il baron fate il baron ai death bot fate il baron vai è stata una colla abbastanza decente questa perché comunque mal fight usando la R è tutto su di me si è privato di della possibilità di fare il barone non fate lo stilare per favore Jax lo smile ce l'hai Jax lo smile ce l'hai ok stiamo attenti perché ok ecco e punto me la sono giocata bene meglio di così non potevo fortuna che il mio team è tornato subito ok andiamo back si ora ci vogliamo gruppare ora è forte grupparsi prendiamo questo e prendiamo anche questo let's group and stay spread for malf ulti bisogna stare no 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 3-1 no 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 we have poke use it abbiamo il poke dobbiamo usarlo mal fight eh team vieni con noi per favore ecco mica eppure l'ho detto cioè l'ho detto eh l'ho detto attenzione al cazzo di cosa di mal fight attenzione al cazzo di cosa di mal fight mica parlare con i muri ho parlato con i muri ho parlato raga ma che roba ma che roba raga un po' di backline ma Alistar ma non ora Alistar c'ha il decision making di mia nonna in carriola when they chase us Alistar you must die for us però vabbè figurati se lo capisci anche se non aveva spell faceva da scudo umano e noi ci salvavamo e loro non avrebbero preso l'inibito l'inibito non lo prendono stesso perché sono suicidati Cristia muori non sto dicendo che è colpa sua attenzione perché poi in chat non sto dicendo che è colpa sua sto dicendo che quando si vedono cose del genere Alistar dovrebbe letteralmente suicidarsi e comprare del tempo così ci saremo salvati non dico che è colpa sua lì avevamo un position in brutto tutti quanti lì avevamo tutti in brutto position quindi non è assolutamente colpa sua corriamo 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 penso che dovremmo ruotare ora c'è un drago dell'oceano che fa cagare non sono vivi ma il fight mi fa troppa paura mamma mia il fight mi fa una paura allucinante quello mi piglia mi one shot mi piglia mi one shot cioè potrebbe essere qui vedi potrebbe essere qua ora boom eh ma il fight era guardalo lì guardalo lì che è in giungla ragazzi attenzione a mal fight che quello quello ti ulta quello ti ulta ti fa malissimo ho preso una signorina ho preso una signorina bravi buona 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 ho vinto il fight io ragazzi ho vinto il fight io qua bravi i miei compagni d'attivo attenzione attenzione mal fight negli angolini quello è fetente e quello è fetecchio cazzo cazzo non abbiamo wave dobbiamo andare bottling qua eh no 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 qua non ci posso stare qua non ci posso stare perché c'è mal fight mal fight ancora la R dove cazzo è non lo vedo eccolo aveva il flash vabbè ragazzi aveva il flash cioè contro il flash non c'è counterplay non c'è counterplay contro il flash cioè se babbo non c'è counterplay counterplay contro il flash purtroppo se ce l'ha adesso non ce l'avrò più però non si poteva sapere se ce l'aveva non si poteva veramente sapere mi ha fatto 980 di ulti 488 di E e 338 di grande circo se una W madonna purtroppo contro il flash non c'è counterplay zero non potevamo saperlo non potevamo saperlo potevamo intuirlo ma non saperlo veramente impossibile minga c'è una una team com del cazzo veramente del cazzo veramente del cazzo il problema è mal fight che si è fiddato a random letteralmente e ha avuto la bella idea di andare a P perché sta vincendo ragazzi sta vincendo solo lui è lui che sta vincendo il game senza di lui full a P avremmo già vinto poi non bisogna senza Ward quasi sapete che sapete che è una cosa stupidissima seguirla tutti quanti perché bot ci prendono torre che palle un fight vinto lì perso per il mal fight vabbè gioco sta devo tentare di nuovo di prendere kaiser che non ha ancora il quest s perché è scema però meno male l'ho ucciso l'ho ucciso madonna Rakan maledetto Rakan maledetto odioso mica veloce come un treno vabbè l'ho trollato l'ho trollato l'ho trollato io mi sarei incazzato al posto di Alistair ma tantissimo rotellone no io al posto di Alistair mi sarei incazzato tantissimo letteralmente l'ho ucciso io è troll ecco appunto è unlucky no non ce la farai mai oh that is nice anche Corky inizia a far danno ora mica ma tutti il flash avete oh madonna l'abbonamento al flash hanno hanno l'abbonamento al flash questi qui salvate la torre no all'alash no ragazzi non sono non sono forti come team comp è solamente è solamente quell'Alistair di merda il problema eh si Alistair scusatemi il problema è solo e unicamente malfight basta che sembra che abbia tutti gli augment della missione dell'Odyssey sembra letteralmente che abbia tutti gli augment della missione dell'Odyssey fa talmente male che sembra tanto quello bisogna prenderlo in qualche modo sapete che non possiamo nemmeno fare il baron perché se lui arriva ci ulta dentro noi moriamo come mosche bisogna come morire le mosche uguale questa cosa è orribile ragazzi perdiamo tutta la vita qua mica è culo è vero tu vuoi shottarlo di vabbè xd io stupido che provo a faltare kaiser io stupido che provo a faltare col champion broken di merda io stupido stupido io stupido io stupido 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 io non devo neanche provarci ho voluto provarci ma è arrivata la minion wave potevo pure riuscirci in realtà boom e tutto esplodi guardalo questo qui praticamente full build vabbè gg gg peccato per mal fight che si è fiddato a cazzo di cane ma l'ultimo fight è stata colpa mia l'ultima cosa che ho fatto è stata colpa mia assolutamente però raga lasciar fiddare un mal fight così è un po' da nabetti è un po' da nabetti però sti cazzi alla fine zoe ha ancora parecchi punti deboli cioè è ancora debole è ancora debole spero che col prossimo buff tornerà abbastanza viabile no anzi no non lo do a timo dai no non lo diamo a timo cioè rendiamoci contro ragazzi che mal fight avrà fatto tutti i danni del mondo guardate oppla sapete perché raga non lo so neanch'io perché non ho prestato molta attenzione al game ma sicuramente io non sono morto da lui e questo è chiaro sicuramente qualcuno di lorsignori che sono morti 9-7 volte was already over mouth carrier who couldn't win in any case vabbè dai ragazzi spero che il video sia piaciuto ci vediamo oggi ciao